Iniziamo la settimana con conversazione, perché chiaramente vogliamo anche continuare a tenere alta l'attenzione sui problemi che riguardano il nostro ambiente e soprattutto i danni dell'alluvione che hanno segnato un percorso di grande difficoltà per diverse strutture e per diverse abitazioni. Con noi Santo Vazzano, perché vogliamo parlare del Parco di Pitagora, vogliamo parlare dei danni subiti e soprattutto, visto che è punto di riferimento della nostra città, sempre di più punto di riferimento, quindi c'è stata anche una grande solidarietà nei confronti della gestione del Parco, perché insomma non si può accettare che ci siano situazioni particolari. Allora, i danni dell'alluvione, a che punto siamo? I danni sono danni importanti, tra virgolette erano danni anche prevedibili, perché abbiamo più volte avvisato in questi anni che un alluvione, una portata acqua importante avrebbe causato questi danni. I danni sono relativi all'interno della struttura museale, dove è entrata l'acqua, è entrata l'acqua nel locale Caldaia, rovinando l'impianto di condizionamento, ha rovinato parte dell'impianto elettrico a terra, è colata l'acqua, diciamo, dalle controsuffittature, quindi allagando anche le prime sale museali. Quindi questi sono, diciamo, la parte interna che ha infangato anche, diciamo, la parte della caffetteria e di tutto quello che era, diciamo, le vettovaglie della caffetteria. I danni più ingenti li ha fatti all'esterno, rovinando i camminamenti e facendo cadere i muretti in pietra e delle massicciate in pietra. Avete fatto la contata ai danni, quindi chiaramente immagino, ma adesso c'è necessità di correre ai ripari o avete già fatto questo passo in avanti? Noi abbiamo messo in sicurezza tutto. Di fatto il museo è chiuso per normative ministeriali, però il museo è stato già messo in sicurezza dai primi giorni, dove i nostri volontari, insieme ad altri cittadini, hanno aiutato a togliere il fango e a ripristinare appunto il tutto. Fuori abbiamo messo in sicurezza le parti più importanti, isolando le zone in pericolo, transennandole e appunto mettendole in sicurezza, isolandole diciamo dal resto del parco. Io dicevo prima la solidarietà insomma c'è stata, molti cittadini sono venuti a darvi una mano, perché chiaramente è un punto di riferimento, non solo per lo sport, non solo per il museo, ma perché c'è voglia di stare insieme. Visto che ormai siamo zona gialla, questo significa che ci sarà sempre maggiore presenza all'interno del parco. Sì, noi diciamo, questo è il dato positivo, nonostante tutto, nonostante il poco apporto che solitamente si ha da parte pubblica, nonostante questo abbiamo lavorato bene creando una rete comunitaria in città e questo quando succedono questi fatti è un ritorno, è un ritorno importante, è un ritorno di consenso, è un ritorno di interesse e appunto un ritorno di una comunità viva di cittadini che vogliono impegnarsi e impegnarsi anche per gli altri. Non soltanto danni per l'alluvione, ci sono stati anche degli atti vandalici, abbiamo fatto subito il servizio appena lo abbiamo saputo e dobbiamo dire per fortuna che ci sono le telecamere e quindi è stato facile raggiungere chi ha commesso questi atti vandalici. Diciamo che è stato facile perché il parco è continuamente presidiato dai volontari di Giobel, quindi è stata fatta subito la comunicazione alle autorità competenti, le forze di polizia sono arrivate subito, quindi con le telecamere funzionanti si è riuscito subito, come dire, nel giro di poche ore già individuare il soggetto che ha causato questi atti vandalici. La cosa bella però è la risposta che abbiamo avuto, una risposta importante da parte della città, centinaia di attestazioni di solidarietà, ma anche la concretezza di ripristinare subito questi danni vandalici, quindi abbiamo avuto un'impresa che ci ha rifatto subito le insegne che lunedì al più presto le monteremo e soprattutto da parte di alcuni giovani delle scuole superiore l'idea di ripristinare quello che un loro collega, probabile collega, come dire, ha imbrattato. Parliamo di cose positive, che è fondamentale. Ci sono i progetti che interessano il Parco e il Museo di Pitagora? Sì, ci sono progetti importanti, ci sono progetti inseriti in alcune filiere di impostazioni appunto di sviluppo urbano, di sviluppo comunitario, di inclusione sociale e di sviluppo artistico culturale. E soprattutto, come dire, sta proseguendo la nostra attività di attrattività verso l'esterno. Nei giorni scorsi noi abbiamo contattato una rete importante di tour operator, 50 tour operator a livello europeo, nazionali ed europei, dove abbiamo proposto non soltanto il parco, ma abbiamo proposto la città di Crotone e la provincia di Crotone, con le sue tipicità non soltanto paesaggistiche, il mare, la montagna, ma proponendo proprio l'incontro con le persone ed è stato un successo. Probabilmente, anzi sicuramente, quando finirà tutto questo, quando finirà la pandemia, quando finiranno le restrizioni, c'è la possibilità di far arrivare a Crotone migliaia e migliaia di turisti. È quello che desideriamo tutti, dobbiamo dire, perché chiaramente noi vantiamo questo titolo, Crotone città turistica. È chiaro che, come abbiamo avuto modo di dire anche altre volte, Santo, c'è necessità di fare sinergia, sintesi, rete e di mettere insieme tutti quei soggetti che hanno veramente voglia di far riprendere l'economia locale e soprattutto di fare in modo che questa città sia visitata, sia appunto di riferimento per il turismo. Sottolineo questa tua domanda, riflessione, nel senso che proprio la vittoria della proposta che abbiamo messo in atto con questi tour operator è stata la sinergia che si è sviluppata nella comunità crotonesa. Abbiamo trovato strutture alberghiere che hanno fatto proposte per tutto l'anno, quindi a prezzi anche competitivi. Abbiamo trovato ristoratori, abbiamo trovato cantine, abbiamo trovato associazioni, cittadini. Abbiamo messo su, possiamo dire così, la vendita dell'essenza della crotonesità, quindi non vendiamo il mare che lo possono trovare ugualmente bello in Sardegna come in Puglia, ma proprio abbiamo messo su una proposta che riguarda la tipicità di crotone, del comprensorio, ma anche le sue marginalità. Un percorso che abbiamo proposto è quello di incontrare le associazioni che ci sono sul territorio, le cooperative, i luoghi come beni confiscati dalla mafia, insomma un turismo che sia, come dire, verso l'eno gastronomia, verso l'archeologia, ma che incontra soprattutto crotone e la sua anima. E questo è fondamentale perché chiaramente noi abbiamo tanti settori che potrebbero essere trainanti nel nostro ambito turistico, no? E non solo la cultura, come ben dicevi, ma anche l'eno gastronomia che ci vede sicuramente protagonisti per alcuni prodotti, ma quello che è fondamentale è il coinvolgimento perché in effetti se ognuno va per la propria strada difficilmente si riesce a creare un progetto unico e nello stesso tempo a dare a questa città un percorso innovativo. Sì, l'abbiamo detto altre volte interlocutando io e te, lo insegna la pandemia, ci si può salvare non da soli ma insieme, si può uscire dalla crisi non da soli ma insieme, si può creare sviluppo solo se mettiamo da parte l'odio, se gridiamo alla luna, se ognuno fa la sua parte interagendo per un progetto comune. Sono state andando avanti anche con, dobbiamo dire, gli eventi sul web e questo è un altro punto fondamentale per farci sentire tutti una comunità? Sì, noi non ci possiamo permettere come gestione e come gestori di un museo importante come quello di Pitagora di fermarci. Il museo logisticamente è chiuso ma all'interno stiamo proponendo un'attività interattiva con un pubblico tra l'altro più vasto perché il web ci permette questo attraverso i canali di Youtube e dei social network, ci permette di arrivare davvero dappertutto e quindi abbiamo messo su una serie di conferenze che le abbiamo chiamate percorse e visione sulle orme di Pitagora. Quotidianamente facciamo vedere i nostri laboratori di matematica e della lodomatica, le mostre, le importanti collezioni che abbiamo all'interno quindi c'è un'interattività con un pubblico che non è diciamo vicino ma che è un pubblico ugualmente comunitario anche se a distanza. Magari sono anche tanti crotonesi che vivono fuori dalla nostra terra? Sì, sono crotonesi ma sono anche diciamo queste persone, agenti di viaggio, tour operator che siamo riusciti a mettere su in questa grande rete che non riguarda solo Crotone e la Calabria ma è ben più vasta. Come Consorzio Giobelli immagino che state lavorando in maniera molto costante perché chiaramente nessuno si può fermare in questo periodo e soprattutto perché sono diversi servizi anche sociali che mettete in campo e questo è un argomento di cui mi fa piacere parlare perché molte volte dobbiamo anche andare a scoprire quelli che sono i disagi che ci sono nella nostra terra. Sì, il Consorzio Giobelli ovviamente non è solo il gestore di un'area pubblica anche se importante come il Parco Pitagoro ma il Consorzio Giobelli è appunto una comunità, un insieme di associazioni cooperative che si occupano di assistenza educativa, di assistenza sociosanitaria, di gestione di centri di urni, insomma è un consorzio provinciale che offre diciamo ai più deboli dei servizi e soprattutto in questo periodo di lockdown continuo se vogliamo chiamarlo così i problemi si sono aggravati, si sono aggravati i problemi delle famiglie, delle donne, delle donne vittime di violenza ma si sono aggravati soprattutto i problemi dei minori il fatto che non si va a scuola sta creando davvero un forte disagio non solo fisico ma anche psicologico ai tanti minori e giovani come dire che sono chiusi nelle case, agli anziani soprattutto. Il vero problema è sempre di quello che sta solo, non ha relazioni, non ha amicizie e quindi la difficoltà di porre azione di sostegno e di aiuto. Stiamo parlando delle nuove povertà, le nuove povertà che non sono, non è solo la povertà economica perché su questo c'è tanto da dire, sono aumentate tante le famiglie che sono in difficoltà ma la povertà educativa appunto, quello che riguarda i minori, i bambini che stanno a casa. La povertà che riguarda le persone anziane che vivono da sole, che non hanno sempre la possibilità di essere supportate. Insomma una società che è molto molto più fragile del passato. Sì, viviamo, diciamo ci sono categorie storicamente fragili, a queste categorie di uomini e donne fragili si sono aggiunte altre categorie. Anche gente che sta perdendo il lavoro, gente che era benestante fino a qualche tempo fa. Insomma la pandemia nel sud e nelle città calabrese e a Crotone in particolare sta causando davvero grandi problemi. L'assurdo è che contestualmente non c'è un problema di risorse economiche, quindi l'abbiamo visto in sanità, come dire, la cartina da sole potrebbe essere la sanità, milioni e milioni di euro per avviare l'assistenza domiciliare, le reti domiciliare, la sanità di territorio e questi soldi non vengono spesi. E quindi un'autocritica tutti insieme, operatori del sociale ma soprattutto operatori del pubblico e livelli istituzionali se, come dire, ce la dobbiamo fare. Perché ci sono queste risorse che permetterebbero un aumento della qualità della vita, una riduzione del disagio sociale ed economica eppure non si fa niente. Quindi è solo il volontariato che si muove in quest'ambito? Diciamo che il volontariato, l'associazionismo, la cooperazione in questa nostra regione ha un valore assoluto. Credo che insieme alle parrocchie, lo dico senza paura di essere smentito, ripeto, parrocchie, chiesa, volontariato, cooperazione, terzo settore in genere, sia quello che sta tenendo ferma la coesione sociale. Perché qui scopriamo sempre di più, come dire, un'immaturità della classe dirigente a tutti i livelli, soprattutto politica e diciamo chi ha pochi strumenti, soprattutto economici, riesce, come dire, con la buona volontà e soprattutto col mettersi insieme, come dire, a mettere ostacoli al disagio sociale per quel poco che si riesce a fare. E aggiungiamo che il nostro è un popolo con una grande dignità e quindi molte volte non si rivolgono nemmeno alle istituzioni, pur avendo difficoltà di natura, io penso, economica, no? E molte volte sono proprio le associazioni di volontariato che intervengono in aiuto a queste famiglie. Questo che stai dicendo tu, secondo me, da una parte è una verità assoluta, dall'altra è uno dei veri problemi che ci troviamo ad affrontare. Perché, lo ripeto, noi abbiamo persone che anche nella povertà, diciamo, nelle difficoltà trovano, come dire, appiglio nel reddito di cittadinanza, nell'aiuto che le varie parrocchie, la Carites e la Croce Rossa fanno. Però abbiamo adesso tante persone che hanno tante dignità, che hanno perso il lavoro, che hanno avuto danni alluvionali e queste sono le persone che non hanno né diritto agli aiuti economici dello Stato, del Comune, della Regione e tantomeno si rivolgono a questi centri di ascolto e di aiuto che ci sono sul territorio. Che cosa si può fare per dare incontro ai bisogni di queste persone? Beh, innanzitutto bisogna avere un progetto solidale della città, che in termini tecnici significa realizzare quello che si chiama il piano sociale di zona. Quindi gli strumenti ci sono, perché, ripeto, le risorse economiche ci sono. Qua si tratta davvero, perché lo prevede tra l'altro la legge, la legge di intervento sul sociale, che insieme le ASP, i comuni e quelli che sono impegnati nel sociale, come dire, si mettono insieme e fanno un progetto partendo appunto da un'analisi di bisogni seria. Chi è che deve fare questi tavoli istituzionali per poter, in qualche modo, la mia è un'ironia, questi tavoli istituzionali per poter discutere di questi argomenti, che sono alla base di una società veramente, come dicevo prima, fragile, molto molto fragile. Sì, e qua ci dobbiamo dare una mossa tutti quanti, perché bisogna davvero capire dove stiamo andando a parare, dove vanno indirizzati gli aiuti e vedere come, da una parte, leggere i bisogni e i nuovi bisogni che vengono dalla popolazione e dall'altro come porre il rimedio, ripeto, considerando che le risorse economiche ci potrebbero restere, sia in campo sociale, sia in campo di sviluppo urbano e sia in campo sanitario. In ogni caso dobbiamo anche aggiungere che molte volte, insomma, il polso della situazione ce l'avete voi del mondo del sociale? Perché chiaramente avete una visione molto più completa di quella che è Crotone in questo momento. Ma ce l'abbiamo noi perché siamo a contatto tutti i giorni con tutti, no? Con chi sta bene, con chi sta male. Ce l'abbiamo noi perché a Crotone, come in altri posti della Calabria, siamo tanti anni che facciamo queste cose. Lo facciamo, come dire, senza scopo di lucro, così come sono gli statuti delle nostre associazioni. E lo facciamo, diciamo, con poveri mezzi. Quindi anche qui dell'arte ne abbiamo fatto una virtù, nel senso che riusciamo davvero, per quel poco che possiamo, perché poi il disagio è veramente grande, ad avere il polso di quello che sta accadendo in questo momento nella popolazione e nelle persone in difficoltà. Avete provato a parlare di tutto questo, ad esempio, con l'assessorata ai servizi sociali del comune di Crotone? Sì, sì, sì. Con l'assessore ai servizi sociali e il nuovo assessore Filippo Linsi abbiamo parlato, abbiamo parlato sia come forum del terzo settore, ma abbiamo avuto anche altri contatti. Abbiamo trovato una persona innanzitutto che non parte da zero. Quindi vanno fatti i nostri complimenti all'assessore Pollinsi perché, come direi, conosce i problemi e soprattutto gli riconosciamo l'umiltà di capire che ha bisogno, lei stessa e l'assessorato, di interagire con il terzo settore per correre in meglio. Questo è fondamentale perché chiaramente da questa collaborazione può venire fuori una progettualità a favore delle famiglie. Ci avviciniamo al Natale e immagino il disagio che c'è in questo momento e il disagio che deve essere in qualche modo supportato. Sì, il Natale, oltre a problemi economici, porta soprattutto il problema della solitudine. Quindi è importante, come dire, mettere azioni in questo senso. Mettere azioni dal punto di vista economico, della spesa sociale, della spesa solidale per far arrivare il cibo su tutte le case anche dei più poveri, ma soprattutto far arrivare una relazione, far arrivare amicizie e compagnia per tutte quelle persone che sempre di più stanno da soli nelle proprie case. Quando parliamo di sociale, diciamo che tocchiamo un tasto dolente, no? Anche perché molte associazioni non ci sono più, ce n'erano molte di più forse nel passato e poi c'era quel senso di comunità che ci permetteva di mettere insieme diverse categorie e poter aiutare le persone che sono nel momento della fragilità economica, sociale e assistenziale. In tutto questo, quale potrebbe essere un vero progetto da mettere in campo? Mi riferisco, pensiamo a un progetto con l'ASP, per le persone che hanno bisogno di essere curate a casa, lo stanno facendo, si stanno dando da fare, però in realtà è come se noi fossimo in un ambito sotto una cappa e molte volte è difficile riuscire a raggiungere quegli obiettivi che comunque tutti si propongono. Sì, la prima azione riguarda noi, noi tutti quanti, noi operatori, noi sociale, noi ASP, noi comune, come dire, dobbiamo cominciare a ragionare in maniera diversa, no? Dobbiamo appunto cominciare a ragionare che siamo un insieme, punto primo. Quindi smetterlo ognuno nei vari livelli, anche noi della cooperazione, dell'associazionismo, possiamo, come dire, pensare a lavorare e pensare che ce la possiamo fare da soli. Non è così e sarebbe un lavoro in vano. Faccio un esempio, è stato pubblicato da poco un bando che si chiama Abitare la Qualità. Allora, dal punto di vista, per esempio, dell'housing sociale, dove ci sono risorse importanti, si potrebbe pensare a realizzare, per esempio, case, condomini per chi sta solo, per gli anziani, per i disabili, mettendo insieme le varie competenze, quindi l'ASP con i suoi servizi, il comune con i suoi assistenti sociali, le cooperative mettendo a disposizione i suoi operatori. Quindi, mettendo insieme, per esempio, facendo comunità, creando quartieri nuovi, recuperando un patrimonio vecchio del pubblico, del comune, si potrebbero, come dire, risolvere tanti problemi, addirittura partendo da interventi non sociali, ma da interventi edilizi. Quindi ho fatto questo esempio per dire che è possibile, come dire, far sì. Noi anni fa, sull'ex scuola elementare di San Francesco, avevamo pensato di fare una struttura polivalente, che fosse centro di urno per anziani, centro semi-residenziale, centro residenziale, per far sì, come dire, che intervento sanitario, intervento sociale, intervento aggregativo fossero comuni in un unico luogo. Non è passato il progetto? Non è passato il progetto, non è stato manco preso in considerazione. Però adesso, diciamo, ci sono le risorse, c'è una risorsa appunto che si chiama Abitare la qualità, l'abbiamo già anticipata al comune, più presto l'anticipiamo anche all'ASP, che potrebbe, come dire, far sì che questo progetto diventa realtà. Il sociale capofila di una serie di progetti che poi vedrebbe l'intervento delle istituzioni politiche, sanitari, eccetera. Allora, qui si devono mettere in testa tutti, lo dice la programmazione europea, lo dicono i progetti, l'inclusione sociale, o come vogliamo chiamarlo semplicemente il sociale, è trasversale a tutti i progetti. Antica Croton non è un progetto di scavi, è un progetto di rigenerazione urbana. E anche quello, se non si parte dal sociale, così come agenda urbana, non si va da nessuna parte. Un'ultima domanda te la faccio sui servizi sociali che voi offrite anche ai detenuti, no? Sì. Lì al parco di Pitagora. Sei una delle poche realtà che si interessa di queste persone, che gli dà l'opportunità di un recupero sociale e dignitoso. Sì, diciamo, siamo diverse realtà in Calabria. Ovviamente noi gestiamo, come dire, abbiamo relazioni con diversi enti, dal centro di giustizia minorile di Catanzaro, ai carceri e soprattutto all'ufficio di esecuzione perenale esterna, nonché il tribunale. Quindi abbiamo sviluppato in questi anni un po' di esperienza. Anche lì, come dire, è l'azione visibile dove si può uscire da un problema dando dignità e protagonismo alle persone. Grazie, Santo. È sempre interessante parlare con te perché abbiamo un punto in comune. Il sociale è quello che si deve fare per il sociale in una realtà come la nostra. La Calabria non può essere sempre fanalino di coda e Crotone non può essere fanalino di coda della Calabria perché solo mettendo insieme le realtà e collaborando si può veramente dare un'idea diversa, un'immagine diversa della nostra città. Siamo tutti innamorati di Crotone, quindi credo che, così come della Calabria, credo che sia giusto collaborare e mettere in campo progettualità che possano farci uscire dal guado. Quindi grazie per essere stato con noi. È sempre un piacere. Abbiamo parlato di diversi argomenti e questo ci fa capire che in realtà non vi fermate mai. Siete sempre in movimento con l'intento di dare risposte e soprattutto di collaborare con le istituzioni ma di presentare dei progetti che possano essere interessanti per questo territorio. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Ci vediamo al prossimo appuntamento.